Alejandro Marius, venezuelano, anzi italo-venezuelano perché hai una parte di famiglia italiana. Certo, il mio nonno era friulano. Tu sei un imprenditore sociale, ci spiegherai bene cosa significa, in una delle realtà più complicate del paese, che vive una crisi politica e sociale, in un paese diviso e anche impaurito, dove si fatica a trovare il pane. E tu hai fondato un'associazione non-profit che si chiama Trabajo e Persona, Lavoro e Persona, che continua testardamente a creare professionisti, a inventare lavoro. Perché? Proprio lì dove il lavoro non ci può essere. Diciamo che per noi il lavoro e la persona sono cose che vanno molto collegate. Nel senso che una persona lavorando esprime tutto quello che è, anche può scoprire tutto quello che è lavorando. Nella mia esperienza personale è stato così. Io ho iniziato a lavorare a 12 anni e io vedo adesso tante persone che noi gli offriamo l'opportunità di un falegname, una donna che fa il cioccolato, che cucina, quindi diventa chef o parrucchieri. Nel lavoro la persona esprime la sua passione, è un rapporto privilegiato con la realtà. E dopo è il modo di collaborare al bene comune del paese. Come hai detto tu, Monica, ci sono tanti problemi. Magari non c'è tanto impiego, però si possono creare opportunità di autoimpiego, o microimprenditorialità. Quindi se uno parte che la realtà è positiva dentro della crisi, che è un segno che ti dice una cosa di più, e tu come persona non sei definito dalle circostanze, ma le circostanze ti aiutano a vivere di un modo vero, il lavoro e la persona sono due aspetti fondamentali. E questa è una bella sfida, che parte però da un ideale. Vediamo se riesci a spiegarmi cosa significa che il lavoro ha una dimensione trascendente, come la persona. Perché noi siamo, io sempre dico che siamo come soci, siamo partners di Dio. Perché Dio, il creatore, ha fatto tutto. Però noi continuiamo lavorando con Lui nella creazione per poter sviluppare beni e servizi per altri uomini. Allora è un rapporto molto trascendente, nel senso che non è solo quello che riesco a fare, e quello che riesco a fare per tutti. Pensa a quanti persone lavorano ogni giorno in tutto il mondo e come un modo di amicizia sociale, come ha detto Papa Francesco, come un modo di comunione con tutte le persone che lavorano, credenti o no credenti. Noi abbiamo ancora l'idea che il lavoro sia un obbligo e naturalmente un peso. qualcuno oggi teorizza la decrescita felice, quindi la riduzione assoluta del lavoro. No, assolutamente no. Quando tu le offri un ragazzo in una città del Venezuela, in provincia, che può invece di ruvare tre cellulari alla settimana, può diventare un fallegname. E dopo quando tu le fai la formazione e lui dice invece di costruire mobili, penso che sono costruito io in questo corso. Ti è capitato? Lo sto dicendo, si chiama Carlos. Ah ok. Lo conosco. Allora, io sempre parlo dei fatti, non sono filosofo, sono un ingegnere che lavora nel mondo sociale. Allora, per me questo è una cosa che io faccio conti tutti i giorni, perché non c'è un altro modo di spiegare. obbligo, prendere i panni a casa, quindi lo stipendio, è un diritto, è un devere. Sono d'accordo con tutti. Però sono parziali, se tu non capisci questo aspetto trascendente del lavoro che ti collega con un ente superiore. Io lo chiamo Gesù, Cristo, Dio, però ognuno le può dare il nome che vuole. Perché possiamo unire questa considerazione del lavoro all'identica considerazione di altri due termini in una triadi diventata slogan e emblema dei movimenti popolari terra, tecio e trabajo, terra, tetto, cioè casa e lavoro. Sì, perché la terra è un dono, è un dono di Dio, nel senso che è lì, è tutto per scoprirla. È diverso che la mineria, per esempio. Nella terra il contadino entra come in un'armonia, rispettando, si lo rispetta, le stagioni, semina, piano piano va a vedere i frutti. Dopo il tetto è un diritto che tutti gli uomini diciamo devono avere, quindi che possono avere il tetto con le condizioni che può garantire uno Stato e che con il suo lavoro possono avere un luogo da dove vivere, far crescere la sua famiglia. E che tutto questo si può fare tramite il lavoro, sono le tre T, che Papa Francesco, anche in Bolivia, quando è andato alcuni anni fa con i movimenti popolari, ha incontrato, anche io incontro, una grande sintonia, l'incontro in Venezuela con tutti questi movimenti che magari non sono credenti, però che siamo uniti in questa lotta, in questo desiderio di che tutti possono avere almeno… Per il bene comune. Per il bene comune, il bene di tutti. Senti, tu sei un imprenditore sociale, sei stato dichiarato dal World Economic Forum l'imprenditore sociale dell'anno anche, qui una personalità che ha stupito e che colpisce, però tu eri un manager della Pirelli Telecom, immagino avessi un ottimo stipendio, anche rispetto ai parametri del Venezuela e avresti anche potuto andartene a un certo punto quando la situazione era più critica del Venezuela. Perché poi hai lasciato questo lavoro così ben retribuito e sei rimasto lì? È un lavoro che mi piaceva tantissimo e mi piace. Io ho fatto sempre carriera in l'area della Telecom e con Pirelli Brodan era l'area manager per l'America Latina di lingua spagnola. Però uno si muove quando capisce che è una cosa che è di più di quello che stai facendo. Allora ho fatto un percorso circa di due anni con alcuni amici che mi facevano le domande, soprattutto io. Era già sposato con quattro figlie. Tu eri già sposato con quattro figlie? Sì, era già sposato. Quindi hai proprio rischiato proprio all'arrembaggio, così da pazzo. Però io con cinque donne a casa ho capito che a volte alle donne si deve ascoltare e si deve seguire alle donne. Non ho problema su questo. Mia moglie Alessandra mi ha detto ma guarda, gli occhi ti brillano di più quando ti implichi nel sociale che quando chiudi un grande business. e dopo ho un'amicizia con una suora che ha 94 anni, madre Cristiana che è stata padezza qui a Vittorchiano, adesso in Venezuela e già in pensione. Io dico in pensione. Cristiana Piccardo. Piccardo. Una grandissima personalità che ha aperto anche un monastero benedettino in Venezuela. È curioso che tu laggiù, dall'altra parte del mondo, come direbbe Francesco, hai come modello i monaci benedettini. Sì, perché ora di lavoro è diventata una regola nella mia vita. Madre Cristiana, la cosa che mi ha colpito di più è che lei mi faceva le domande e le domande sono molto semplici. Cosa fai? Perché ti piace questo lavoro? E con le sue domande io mi ho fatto tante domande della mia storia. È stato un percorso vocazionale, diciamo, dal punto di vista professionale perché grazie a lei ho visto tutta l'esperienza che aveva fatto da giovanissimo con il mio papà che era sindicalista cattolico latino-americano però lui il suo hobby era lavorare. Abbiamo costruito la casa con lui, con il mio fratello, con la mia mamma. Materialmente? Materialmente ho imparato a fare tutto nella casa dal legno, da mettere a posto l'elettricità, tutte le plomerie, non so come si dice in italiano. Beato di chi ha sposato. Senti Alejandro, dove hai trovato i soldi, l'ascolto, l'attenzione per mettere su un'impresa come trabacco in persona? Cioè siete partiti in quanto? Tu qualche amico? A chi vi siete rivolti? Come siete andati avanti? Sono partito con un po' di amici che erano come nel direttivo però che mi hanno detto noi ti accompagniamo però lo fai tu. Quindi io dopo di essere dirigente ho iniziato a essere segretaria, insegnante, project manager come uno che inizia solo. Nei pochi mesi ho preso un assistente adesso siamo in 30 persone in 6 regioni del paese. Però la cosa che mi ha colpito di più è che non sento che ho fatto nessun sacrificio. Nel senso che questo è il mio lavoro. Abbiamo con mia moglie deciso insieme di fare questa scelta e abbiamo trovato progetti di cooperazione internazionale con imprese. Università. Sì, lavoriamo con le università. Le università non hanno tanti soldi però le aziende avevano in Venezuela soldi enti di cooperazione internazionale. Ho lavorato tantissimo con la Camera di Commercio Italo-Venezuelana. Abbiamo fatto una squadra bellissima anche adesso lavoriamo con loro. Però la cosa che è il metodo che a me mi funziona di più più che tutta la teoria di fare un raise in tutte le cose è la testimonianza. Cioè tu racconti e qualcuno si muove. Perché la gente dice o sei pazzo o qualcosa capita a te che è interessante. A quante persone se si può dire avete trovato lavoro o quante persone avete formato cioè diamo qualche cifra. Più del 3.000. E abbiamo un modello che è molto interessante perché non facciamo solo formazione. Noi non abbiamo un centro di formazione come si fa qui in Italia. Abbiamo lavorato e abbiamo una rete di più di 20 centri tutti diversi. Abbiamo trasformato il garage di una parrocchia per diventarlo laboratorio di cioccolato. Lavoriamo con i gesuiti con i salesiani per offrire un percorso formativo non perché possano avere l'impiego i giovani o le donne che noi formiamo ma perché possano avere un autoimpiego o che possano iniziare una microimprenditorialità e facciamo un accompagnamento di minimo un anno perché loro possano arrivare quindi un corso molto breve la maggior parte viene anche validato da un'università come un corso di laurea breve e dopo tutto un accompagnamento minimo un anno con attività di aggiornamento professionale collegamento con le banche per il credito stage in azienda quindi come tutti noi abbiamo bisogno di una compagnia allora chi inizia a lavorare in Venezuela ha bisogno di una compagnia e noi vogliamo offrirla meccanici cuochi parrucchieri cioccolatai avete il più buon cioccolato del mondo insomma quindi il miglior cacao del mondo e stiamo lottando per avere il miglior cioccolato e ce la farete a questo mi riferivo mi ha colpito un tuo ragionamento che ho ascoltato sull'intelligenza della fede che deve essere l'intelligenza della realtà cioè tu hai detto la crisi apre la creatività la fantasia e delle soluzioni per esempio dicevi si vendono pochissime macchine in Venezuela e quindi bisogna aggiustare quelle vecchie che si rompono formiamo meccanici questa è una cosa a cui non si penserebbe immediatamente no? sì per me la fede l'esperienza di fede che io faccio è molto concreta e mi aiuta a guardare la realtà in un modo che sia come un segno e un'opportunità per esempio sai che in Venezuela abbiamo una crisi migratoria diciamo la più grande nella storia dell'America Latina e quelli che rimangono da soli soprattutto sono gli anziani e tante gente va via e li invia le remesse allora abbiamo detto ci sono gli anziani da soli i figli sono all'estero e li inviano soldi però non c'è un corso per badanti quindi abbiamo insieme all'università insieme all'università costo per badanti sì il primo diploma in Venezuela per formare in spagnolo si chiama cuidadores integrales che questo metodo è a 360 gradi intelligenza della realtà che prende tutti i fattori non solo l'aspetto tecnico come lo può fare un'infermera molto basica ma anche come giocare con gli anziani ascoltarli tutto un aspetto umano come usare la tecnologia per comunicarsi con i figli che sono all'estero cosa devono mangiare anche fare la fila per comprare il pane o la farina e quindi uno che ti cura senti tu sei sempre stato cristiano sì di famiglia tu sei una famiglia che conosce bene le difficoltà un padre grande lavoratore sindacalista che però è dovuto scappare da una dolorosa dittatura in Uruguay tu sei nato in Uruguay sì quando aveva sei anni nel 78 siamo arrivati a Caracas per il lavoro del mio papà e per quello ho preso anche la cittadinanza italiana del mio nonno friulano quindi io sono straniero in una terra però che sempre dico sono venezuelano per una scelta perché Venezuela è il mio paese grazie di avermi regalato i colori della tua terra in questo braccialetto che ci unisce senti spiegami bene che trabacco di persona che compie dieci anni tra l'altro e adesso ne parleremo ancora non fa la carità cioè tu sei cristiano siete amici siete cristiani lavorate con la chiesa ma non fate la carità noi facciamo la carità nel senso che la carità è riconoscere e la coscienza che Dio ti consente a te e a me anche oggi di respirare senza aver fatto nessun sforzo ok ora capiamo bene non fate solo l'emosina questo forse esattamente non facciamo solo i programmi di assistenza perché in Venezuela abbiamo una situazione che c'è bisogno di tanta assistenza però per noi l'assistenza ci sono altri enti che fanno l'assistenza Caritas fa tantissimo nel paese però noi vogliamo fare una scommessa sul tema dell'educazione perché senza l'educazione non c'è sviluppo da nessun paese allora non facciamo programmi di assistenza facciamo programmi di educazione al lavoro è come una partita di calcio che tu vedi quando sono ragazzi piccolini giocano calzo tutti sono dietro del pallone invece i professionali giocano il portiere non può andare a mettere i gol deve stare nel suo posto allora per la ricostruzione di un paese abbiamo bisogno di una società civile così ti faccio un esempio breve noi facciamo la formazione a donne perché possano diventare cuochi e intraprendere nell'ambito gastronomico con quello che c'è nutrizionalmente valido e con skills per poter intraprendere però che sono mamme dei bambini che sono malnutriti loro per pagare il corso dopo è un volontariato diciamo il modo di partecipare danno da mangiare ai suoi figli e altri bambini della sua comunità e quindi c'è un bisogno che i bambini devono mangiare però noi non andiamo direttamente a dare mangiare ai bambini e fare la mensa ci sono altri che lo fanno noi formiamo queste donne e le diciamo dopo un anno noi ti accompagniamo ma tu devi essere in grado perché il tuo figlio non va più a mangiare alla mensa alla mensa devi mangiare a casa tua e funziona? ce la fanno? abbiamo partito l'anno scorso e già si vedono i risultati eppure verrebbe da dire in una situazione di grande difficoltà e noi abbiamo purtroppo solo echi lontani dal Venezuela o la guardiamo col filtro dell'ideologia a quel paese dall'uno o dall'altra parte però sappiamo che la situazione è grave ci sono continui black out elettrici manca l'acqua manca il cibo oltre che il lavoro davanti alla mancanza dei bisogni primari verrebbe da arrabbiarsi non da sprigionare la fantasia verrebbe da fuggire o da buttarsi nella lotta vera sì e anche di sperimentare l'impotenza di fronte ai bisogni degli altri e che tu non riesci a soluzionare ma com'è possibile che anziché la rabbia si sprigioni altro perché ripeto è il primo sentimento più umano quello della rabbia sì sì però con la rabbia non si soluziona niente io sono ingegnere sono molto strutturato allora sempre mi dicono ma cosa fai tu come ingegnere nell'elettronica nel sociale dico no io ho imparato in università a risolvere i problemi questa ingegneria questo è un problema grosso provo a risolvere un problema piccolo io sono un figlio di immigrante mia mamma era educatrice mio papà io ho sempre vissuto con quello che avevo bisogno per vivere e sempre donandosi agli altri allora io vedo la realtà e la sfida che ho in Venezuela così nel senso mi posso arrabiare a volte mi arrabio però questo non costruisce niente preferisco stare di fronte ai bisogni con un'apertura per capire qual è il mio compito e insieme altri che hanno lo stesso atteggiamento fare le proposte per costruire le tue figlie che sono tutte femmine in realtà condividono la tua strada la tua storia il tuo modo di pensare loro si arrabiano più di me normale sono ragazzi e anche vogliono studiare all'estero diciamo come quasi tutti i giovani in Venezuela però dopo direttamente a me non me lo dicono però altri dicono sono orgoglioso del lavoro che fa il papà senti il Venezuela è un paese cristiano ancora? il Venezuela diciamo che vive una religiosità cristiana e molto tradizionale la sfida che abbiamo tutti come cristiani perché con me lavorano diciamo non solo cattolici lavorano anche testimoni di Giovà che è una cosa molto strana però la cosa che dobbiamo sempre per la ricostruzione di un paese è che la religione sia un punto di unità non un punto di divisione e questa è una cosa che io ci tengo molto che possiamo abbracciare a tutti e poter costruire con tutti la fede se non arriva questa intelligenza della realtà non solo delle soluzioni che ho parlato prima ma anche di accogliere l'altro come Papa Francesco è un esempio molto chiaro per la tua identità di cattolico sei capace di abbracciare l'altro trovare i punti che possiamo avere insieme e andare per la via siamo sempre pronti tutti mica solo voi in Venezuela anche noi in Italia siamo sempre pronti a delegare e a incolpare il governo la chiesa insomma le strutture e ce n'è motivo più di una volta ma essere protagonisti è altra cosa esatto perché quello che hai detto tu prima è una cultura della irresponsabilità quindi sempre la colpa la ha un altro il capo la moglie la ha il ministro la ha il presidente diciamo il capo nel tuo lavoro diciamo sempre un altro tuoi figli noi vogliamo infatti il nostro slogan in Trabajo Persona è educare protagonisti del bene comune una persona che è protagonista è responsabile Tierra il Trabajo sono tre parole essenziali alla persona e a un popolo ma bisogna aggiungere educazione tu lo dicevi già prima c'è scuola e direi anche bellezza sì non si vive di solo pane ma anche della bellezza che è il dono più grande per dare anche coraggio in fondo le speranze alle persone ed è un progetto sì infatti l'anno scorso ho letto un brano di un poeta polaco Norwitt che lo leggeva tanto Papa Giovanni Paolo II che dice che la bellezza è per fascinare il lavoro e il lavoro è per rinascere da qui la sfida di produrre un disco ora uno dice che c'è di strano produrre un disco quando uno fa fatica a trovare le cipolle o il pane produrre un disco è un po' anche uno spreco di energia comunque non c'è quando non c'è l'energia per fare la registrazione oltretutto non c'è proprio l'energia però era l'idea era il sogno di un ragazzo che si chiama Francisco che si è rivolto a voi per dire mi aiutate infatti è stato Francisco che non aveva lavoro lui era è un guitarrista jazz Francisco Sanchez Francisco Sanchez sì ecco il suo disco il suo e di altri pensa che il metodo è molto interessante perché è un progetto per una persona che serve il contrario della logica della cooperazione internazionale come si fa per fare un progetto per una persona è troppo sforzo invece e perché voi invece avete puntato su di lui è perché noi se tu hai la persona nel centro e ti impilichi con la persona dopo Gesù pensa lui a come diventare questo un bene per tutti beh ha fatto le cose in grande perché in realtà è diventato un progetto per molti perché intorno al suonatore Francisco sono messi insieme i più grandi musicisti venezuelani infatti soprattutto è cresciuto in amicizia perché è stato proprio capire il desiderio di Francisco della sua chitarra di suonare invece io l'ho detto ma su questo progetto non suoni la chitarra tu fai il project manager è stato un grande sacrificio perché lui non ha suonato lui alla fine sì però all'inizio la condizione era di non suonare è stato molto bello perché lui si sentiva come Dante di fronte al muro di fuoco che Virgilio lo chiamava e lui diceva devo rinunciare aveva troppa paura invece lui ha detto quando Alejandro o altri amici mi hanno chiesto una cosa è andata male mai allora lui si è affidato abbiamo messo insieme Achilles Baez che è un maestro molto importante è diventato poi tra l'altro il direttore artistico di questo progetto che è dedicato alla musica tradizionale venezuelana ma legata al tema del lavoro sì infatti sono tutti i canti tradizionali venezuelani del lavoro e abbiamo fatto alla fine pensavamo fare un disco però abbiamo fatto anche un libro perché il libro documenta tutto un percorso dal lavoro che fa il muggiatore all'alba e le donne che vanno a lavare al fiume e la raccolta di caffè di cacao fino al pescatore che parte nel tramonto per andare alla pesca è un modo è un modo anche di dare valore a mestieri che sembrerebbero anacronisti che sembrerebbero da dimenticare che invece sono la ricchezza di un popolo sono la ricchezza e che si capisce che Venezuela lavora cantando sono canti che la gente fa mentre lavora secondo me ha un valore universale non solo per il Venezuela perché adesso io vedo i ragazzi che lavorano con me ascoltano con le cuffie è molto individuale non canta per nessuno una volta anche noi avevamo i canti del lavoro e vogliamo riproporre questo e Madre Cristiana anche ha scritto un brano nel libro molto bello di collegare lavoro musica e preghiera e pensa che si sono convolti musicisti più di 30 dei più noti di tutto il Venezuela anche quelli che sono che ancora credono in Chavez hanno donato i diritti della sua canzone quindi si sono coinvolte persone politicamente lontane lontanissime che erano anche in conflitto fra di loro e pensa che si sono messi insieme a registrare questo e hanno voluto anche registrare non solo donare le canzoni registrare lavorare insieme hanno lavorato gratis è stato un punto di incontro quindi la bellezza per noi per me è stato un esempio che proporre la bellezza anche in un paese dove ci sono tanti bisogni che la bellezza non solo sia un punto di di ispirazione ma un punto di costruzione vera di incontro per la gente e mi ha commosso perché i risultati sono 100.000 un milione di volte di più di quello che noi aspettavamo assolutamente sì è diventata una grande occasione per coinvolgere i più importanti musicisti per incontrare delle persone per creare amicizia questo disco e questo libro sono anche un'occasione per rendere partecipi nel mondo di un popolo di tutta la sua storia che non è soltanto fissato nel momento della sua crisi il Venezuela non è solo la crisi politica e sociale di cui noi siamo testimoni da lontano e il Venezuela soprattutto siamo i venezuelani che adesso sono in tutte i parti del mondo che vogliono lavorare che hanno bisogno di un'opportunità sia come migranti in tanti paesi sia in quelli che resistiamo in Venezuela che abbiamo bisogno di un'opportunità per poter lavorare e poter costruire adesso Francisco Sanchez ha imparato a fare l'imprenditore discografico farà altri dischi è la sua tesi di master produzione musicale e le stanno chiedendo anche di partecipare in altri progetti quindi Francisco è diventato anche per me un punto di riferimento di come un giovane di 30 anni che non sapeva neanche utilizzare bene l'Excel è diventato un project manager e nell'ambito musicale in Venezuela con un progetto come questo che quando lui è arrivato al meeting del Rimini è arrivato in Europa per prima volta nella sua vita è arrivato al meeting del Rimini e ha visto un libro con il suo nome grazie a Ita Calibri che è una casettrice italiana che ha accolto la vostra proposta infatti per i suoi 30 anni è stato come un omaggio bellissimo perché per i vostri 10 anni per i nostri 10 anni di trabacco in persona qui avete messo insieme un modo nuovo di fare festa ok esattamente senti se dovessi scegliere tra le canzoni di questo insignia musicista dai facciamo facciamo suonare lui che è Achilles Baez che tra l'altro frequenta i nostri principali festival di musica jazz anche nel nostro paese quale sceglieresti quella che ha più significato per te io voglio scegliere l'ultima canzone del disco perché Achilles l'ha composto Eres la flor del cacao sì Venezuela Eres la flor del cacao la fiore del cacao è bellissima è piccola è fragile come una persona dentro di tutta una crisi come quella mondiale che possiamo dire che viviamo però invece grazie al lavoro e l'attenzione e la cura la fiore del cacao può diventare un sonriso per una persona quando mangia un cioccolato noi vogliamo fare questo esempio e questa sintesi di questo progetto dicendo Venezuela sei la flor del cacao perché partendo di una cosa di una persona come Francisco di un singolo molto semplice di fronte a tutti i problemi può diventare un prodotto come il cioccolato che può fare può essere un bene per tutti il bene comune allora l'ascoltiamo sì grazie Alejandro grazie di essere stato qui da così lontano e in bocca al lupo grazie a te per te e la tua famiglia grazie grazie a te mi tierra Venezuela la gente va pregonando la gente va pregonando el formato la de labores que se trabaja cantando canto de trabajadores su ritmo me ha contagiato te canto mi Venezuela eres la flor del cacao te canto mi Venezuela eres la flor eres la flor del cacao te canto mi Venezuela eres la flor del cacao te canto mi Venezuela eres la flor eres la flor del cacao grazie a te me ha contagiato que dios protege a los sueños que dios protege a los sueños del pueblo venezolano gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo gloria al espíritu santo la gente va pregonando la gente va pregonando el formato el formato de labores que se trabaja cantando canto cantando canto del trabajadores su ritmo me ha contagiato te canto mi Venezuela eres la flor del cacao te canto mi Venezuela te canto mi Venezuela GOLPE Eri la flor del cacao Eri la flor del cacao